Buongiorno e bentornate alla Tana della Volpe. Allora, momento, momento, focus, sì, perfetto. Oggi parliamo di nuovo di libri del Book Club, quindi sono dei titoli che probabilmente in questi video di varie letture avete visto, ma volevo andare un pochino più a fondo, proprio perché tra poco a settembre ci sarà l'altro Book Club, per tenermi un po' sul pezzo. Ecco, vorrei anche parlare di queste due letture. Tra l'altro sono due letture in tono, una con l'altra, perché sono Butter e Yellow Face. Sono, mi sembra, gli ultimi due Book Club, quindi questo, quello di luglio e l'altro di giugno. E volevo fare un po' una riflessione generica, senza andare di nuovo a fare un video da 40 minuti, ma su Yellow Face, che è stato un libro che ha suscitato una risposta variegata, mettiamola così, e su Butter, che ha invece suscitato un sentimento più tiepido. Ecco, dovessi dire Butter, forse è piaciuto un filo di meno rispetto a Yellow Face. Parentesi tecnica, spero che questo microfono si senta meglio. Non mi piace parlare col microfono in mano, perché io gesticolo un sacco, e questo mi inibisce molto il movimento, ma se lo metto qua si sente male e devo trovare un'alternativa con un microfono direzionale che possa aiutarmi meglio, perché sennò si sente tutto un po' vattato. Quindi porterete pazienza, oggi viaggia così. Partiamo ritroso dall'ultimo, quindi partiamo da Yellow Face. Yellow Face, romanzo di Rebecca Quang, che è stato un titolo molto, molto, molto pubblicizzato, sia in Italia che in America, negli Stati Uniti, dove è uscito poco tempo prima, mi sembra che sia uscito l'anno scorso, ma adesso ve lo dico meglio. 23, infatti. L'autrice, che appunto è Rebecca Quang, è nata in Cina nel 96, quindi è molto giovane, e poi è emigrata negli Stati Uniti, e ha all'attivo in Italia altre pubblicazioni, se ben ricordo sempre per Mondadori, La Guerra dei Papaveri, La Repubblica del Drago, che sono tutte parti di una stessa trilogia, che ha dei chiari riferimenti alla cultura cinese, antica, e Babel, che invece è ambientato, se ricordo bene, è una sorta di fantasy, è ambientato in un mondo vittoriano, qualcosa del genere, non l'ho ancora letto, è in un reading list, in wish list, quindi vediamo. Yellow Face è totalmente diverso, da questi romanzi di genere, è un romanzo raccontato in prima persona, che ci porta nel mondo dell'editoria, più che della letteratura, dell'editoria negli Stati Uniti d'America, e lo fa in modo molto interessante. Noi iniziamo il romanzo, con un evento drammatico, raccontato dal punto di vista della protagonista, che si chiama June, che è una scrittrice, di scarso successo, che si trova a dover inseguire editor, case editrici, correttori di bozze, pubblicisti, insomma non riesce davvero a sfondare nel mondo dell'editoria statunitense, e ci racconta quindi una serie di vicissitudini nate dalla sua relazione con un'altra donna, una scrittrice, questa volta di successo, che si chiama Athena Liu. Athena Liu è una donna bella, ricca, nel senso che è riuscita a farsi un nome, molto in fretta e molto presto, con il suo successo letterario, e quindi suscita l'antipatia, il fastidio, l'invidia fondamentalmente di tutte le altre persone che ruotano attorno a questo mondo e che vogliono in realtà avere lo stesso successo di critico e di soldi che ha avuto Athena. Tutto quello che noi scopriamo, tutto quello che noi vediamo dall'inizio alla fine del romanzo è completamente filtrato dallo sguardo di June, e quindi capire anche qui i limiti della verità, i limiti dell'opinione, i limiti del, come dire, anche dell'astio, è molto difficile ed è parte del gioco di chi legge Yellow Face. Ma qual è la storia vera? La storia vera parte appunto con queste due ragazze, quindi Athena da una parte e June dall'altra che vanno a cena fuori, vanno a cena fuori per festeggiare un successo di Athena, tanto per cambiare, cioè l'acquisizione di diritti per una serie tv del suo romanzo, di Netflix, una cosa del genere, e la serata continua poi a casa di Athena con appunto la nostra protagonista che in maniera più o meno goffa ci fa vedere l'invidia che prova per questa casa splendida della sua amica rivale fino a che e qui è l'unico spoiler che faccio soltanto perché anche nella copertina quindi è molto veloce fino a che la serata si conclude con Athena che cucina dei pancake e mangiandoli soffoca. June cerca chiama la polizia cerca di aiutarla nei limiti nel senso che è sconvolta non sa cosa fare non riesce a muoversi ha paura all'inizio pensa che Athena scherzi e poi invece si rende conto che Athena effettivamente sta soffocando sta morendo Athena muore arriva la polizia arriva l'ambulanza soprattutto ma è troppo tardi e quindi la serata degenera in questo dramma cosa succede però prima di morire Athena aveva fatto vedere a June in esclusiva in anteprima la bozza manoscritta del suo romanzo successivo un romanzo che si sarebbe dovuto intitolare The Last Frontier mi sembra che racconta che raccontava nell'immaginario di Athena l'esperienza degli immigrati cinesi al fronte della prima guerra mondiale Athena lo mostra a June June a metà tra l'infastidito e l'invidioso gli dice sì ho letto due o tre pagine adesso che me le hai fatte vedere non so l'ho letto troppo veloce non posso dire ma dentro si capisce già che erode quando Athena muore prima di andare a casa June si porta via questo romanzo questa bozza questo manoscritto l'unica copia di questo manoscritto e da qui il libro degenera cioè il libro yellow face degenera perché? perché passa un po' di tempo June si rigira tra le mani questo manoscritto non sa cosa farne non è vero sa benissimo cosa vorrebbe farne ma non ha il coraggio di farlo per un certo tempo e poi lentamente un pezzo dopo l'altro inizia a scrivere e a correggere questo manoscritto inizia ad appropriarsene inizia a lavorarlo tantissimo rileggendo tutto quello che Athena aveva scritto rileggendo anche tutta una serie di articoli di test insomma approfittando un po' di questa occasione per informarsi anche quindi avere una sorta di background effettivo su questo romanzo e lo mostra al suo editor spacciandolo per suo mentre lo spaccia per suo ovviamente c'è tutto un pensiero parallelo di Jun che dice ma in fondo io l'ho riscritto questo romanzo in fondo io effettivamente ho lavorato con Athena non mi sono solo appropriata della sua opera è una sorta di lavoro a quattro mani ed è più che giusto quindi che anch'io prenda una parte di questo lavoro che quindi dica che questo romanzo è mio il romanzo piace molto all'editore e sul lavoro quindi che credono essere di Jun costruiscono un nuovo caso editoriale cambiano nome all'autrice lei è un'autrice americana ma proprio in virtù del tipo di romanzo che è un romanzo che parla di migrazione cinese le affibiano un nome senza veramente dirlo ma che suona cinese cioè Juniper Song e da qui in avanti noi seguiamo il flusso di riflessioni di paure di rivincite ma poi anche di rapidissime sconfitte che l'autrice non Rebecca ma Juniper esperisce nel corso dei mesi è un romanzo che copre più o meno un paio d'anni dal furto del romanzo del banoscritto iniziale fino poi allo sfacelo finale perché sulla strada Juniper non è particolarmente diplomatica non è particolarmente anche acuta forse non è sensibile non ha non ha molte non ha molte doti questa donna per cui si fa molti nemici si fa molti nemici si trova a combattere con fantasmi più o meno veri di Atena stessa il senso di colpa lentamente la mangia e anche quando cerca di trovare soluzioni sono soluzioni che pescano sempre in qualcosa che non è suo quindi è come se non riuscisse mai davvero a offrire una voce personale propria ma solo a rilavorare qualcosa di altri e tutto questo appunto in una diciamo una valanga che dal piccolo iniziale dal gesto iniziale più o meno meditato e più o meno crudele rovina terribilmente fino alle ultime pagine del romanzo ora ovviamente non vado all'interno delle specifiche dinamiche perché è un romanzo secondo me interessante da leggere e quindi non voglio rovinarvi nessun tipo di spoiler ci sono delle tematiche molto interessanti e su questo vi invito anche a cercare le interviste dell'autrice Rebecca Quang perché dà una una sua lettura molto interessante anche di quanto lei stessa ha portato qui dentro quali sono le dinamiche innanzitutto questa voce in prima persona che ci ripropone una protagonista insopportabile mediocre probabilmente molto poco attenta ai propri errori molto pronta a giudicare gli altri ironica inconsapevolmente perché fa tutta una serie di osservazioni tutta una serie di passaggi anche mentali che a noi lettori fanno sorridere ma che è evidente che Giù non dice per far sorridere si trova invischiata in dinamiche più grosse di lei si trova con un peso addosso che è poi il peso dell'editoria di quando qualcuno confeziona un bestseller e poi questo bestseller deve avere una continuazione non può essere una tanto un grande successo spot e quindi diciamo così la interazione tra questa protagonista molto antipatica anche a volte e tutto il mondo attorno dell'editoria che è un mondo altrettanto inaffidabile viscido pronto a girare le spalle pieno di vipere se vogliamo è una tematica che domina il libro molto interessante costruita molto bene l'altra tematica che io trovo però ancora più interessante è il tema dell'identità culturale perché questo perché il confronto tra le due diciamo due protagoniste quindi Giù e Atena si si struttura non solo sul successo di una e la mediocrità dell'altra ma anche sul fatto che una delle due ha delle origini che sono asiatiche e quindi i suoi scritti i suoi testi hanno avuto successo nel momento in cui hanno fatto propria questa identità asiatica ed è una dinamica anche questa molto interessante come se l'unico spazio che l'editoria offre alle persone asio-americane ma in questo senso anche di altre minoranze etniche sia soltanto quello ristretto di quella specifica parte della loro esistenza vale a dire io sono di origine cinese e per avere successo nel mondo della letteratura non posso fare altro che raccontare storie che hanno a che fare con questa mia origine l'altra parte altrettanto interessante dal mio punto di vista è invece l'altra parte della medaglia cioè di una donna quella di una donna bianca americana che si appropria di un romanzo che parla di una minoranza cinese in un contesto storico molto particolare e che si sente titolata non solo a studiarla ma non nel dettaglio si sente titolata anche a fare delle opere di rivisitazione della popolazione bianca e dei protagonisti bianchi all'interno del romanzo dimostrando una certa superficialità nel comprendere il contesto storico di comprendere anche le dimensioni del potere che influenzano certe dinamiche quando si parla di minoranze e quindi si ritrova a offrire così ci racconta il libro dei personaggi spesso stereotipati che non sono veramente un elemento di riflessione sulla comunità in questione ma sono una riproposizione di certi stereotipi il romanzo ha degli elementi che a me non sono piaciuti nel senso che sono stati forse risolti in modo molto frettoloso a partire dalla figura della madre di Atena poteva essere riservato molto più spazio per dire soprattutto verso la fine e la fine stessa che è molto kafkiana forse per certe cose un po' a rimarcare la spirale di successo in successo e quindi anche a rimarcare l'urgenza di produrre sempre qualcosa di nuovo di stare sui trend topic di twitter di essere un soggetto all'interno del mondo social e di resistere anche alla macchina del fango dei social ma è comunque un finale un po' frettoloso che tira fuori dei personaggi che per molto tempo non si sono visti che poteva aver senso se questi personaggi fossero stati meno abbandonati nel corso della narrazione e che in realtà ha un che di molto ironico come a far capire l'incapacità di imparare di certe persone ma manca un po' di profondità manca un po' di convincimento non so se è italiano non convince diciamo così non convince fino in fondo nell'insieme è un romanzo che a me è piaciuto che in generale è piaciuto diciamo per metà metà sì metà meno proprio perché la protagonista è veramente un personaggio insopportabile molto antipatico è difficile provare qualsiasi forma di empatia per lei anche quando parla del proprio passato anche quando parla dei propri genitori è molto verrebbe da dire arrogante nel suo piangere sempre su se stessa è un personaggio problematico e dall'altra parte anche Atena che noi vediamo e ci viene da detestare perché è perfetta ma la vediamo sempre dallo sguardo di June ecco anche lei è difficile veramente provarne simpatia perché vengono fuori dei tratti molto arrivistici anche in lei un po' il succhiare l'anima da tutte le persone per avere degli strumenti di narrazione per avere delle idee per avere dei resoconti senza mai però dare credito alle persone che hanno collaborato e quindi è un mondo dove il più pulito è la lebra e dove effettivamente nessuno è senza macchia o riesce davvero a prendere uno stand morale diverso dagli altri è un romanzo interessante proprio per questo proprio perché riesce con anche freschezza anche è un romanzo abbastanza grosso eppure scorre bene riesce a tenere attento il lettore fino alla fine con tutti i sei ma appunto che ho detto prima nel caso perché poteva essere sfruttata meglio la parte finale poteva magari andare anche più in cattiveria volendo cioè potevano esserci tante soluzioni anche più cattive anche più convincenti rispetto a quella trovata pur mantenendo lo stesso messaggio quindi ecco questa parte non mi il modo in cui l'autrice ha scelto di concludere il romanzo non mi ha convinto né capisco il senso né capisco la morale se vogliamo ma non mi ha convinto nella resa finale nella resa effettiva detto ciò assolutamente io lo consiglio dopo questo io adesso ho appunto in wish list Babel non ho gli altri due non so se una sono due romanzi o tre non mi ricordo più sul la guerra dei papaveri ma in generale è una friccia che mi piace come scrive per lo meno da questa breve esperienza e quindi spero di poter approfondire anche in Babel che mi hanno detto appunto essere molto ben strutturato con una attenzione ai dettagli di un mondo fantasy appunto molto ben fatta e che quindi forse ci propone uno sguardo diverso rispetto a yellow face ora non terrò questo video ancora lunghissimo ma comunque un accenno a batter lo faccio perché cambiamo mondo cambiamo cambiamo proprio dimensione siamo di nuovo in Giappone questo qua è stato il book club di giugno voglio dire è un altro romanzo abbastanza imponente anche di questo si è parlato moltissimo è stato abbastanza famoso anche nella traduzione inglese quindi avevo molte aspettative su questo soltanto soprattutto perché la premessa era interessante cioè una giornalista che si trova ad avere una sorta di come possiamo dire fortuna anche di privilegio in qualche misura di parlare con una donna accusata di molteplici omicidi e quindi una sorta di dialogo tra giornalista e serial killer e poteva avere veramente tantissimi tantissimi risvolti interessanti ecco a distanza di due mesi abbondanti questo libro si riconferma per essere per me non nelle mie corde nel senso che molte cose interessanti la protagonista interessante il contesto che ci mette intorno anche la riflessione sul ruolo femminile molto interessante e c'è questa sovrabbondanza di descrizioni culinarie che però per me è noiosissima io purtroppo non apprezzo il cibo ma non apprezzo la descrizione né delle ricette né dei piatti né dell'aspetto se vogliamo voluttuoso erotico dei piatti perché mi annoia e quindi tutta questa attenzione tutte queste pagine sovrabbondanti di descrizioni di cibi che ruotano attorno al burro fondamentalmente io lo trovate veramente noiose e la noia ha prevalso talmente tanto che non l'ho finito so la fine perché me l'hanno raccontata l'abbiamo parlato nel book club quindi ovviamente nel nostro book club non si fanno sconti nessuno e si fanno spoiler sempre c'è a chi è piaciuto e anche qui alcune persone l'hanno trovato interessante anche proprio in questa attenzione al piatto e all'aspetto sensuale della cucina io quell'aspetto l'ho trovato veramente too much veramente noiosissimo la storia è una storia che parte appunto da questa donna che è una giornalista che scrive per una rivista che riesce a ottenere una serie di interviste una serie di incontri con una serial killer molto famosa tratta da una storia vera peraltro accusata di aver ucciso di aver causato la morte di diversi uomini dopo la loro relazione questa accusa diciamo così è sempre un po' non è mai confermata non si capisce mai se effettivamente questa donna sia stata l'artefice di queste morti oppure se la morte sia stata una sorta di conseguenza della loro relazione o se ancora è stata soltanto un caso fatto sta che il dialogo centrale proprio tra questa giornalista e la serial killer nel frattempo nel corso della narrazione si inseriscono anche altri personaggi tra cui una delle migliori amiche della protagonista che anche lei è una tenta cuoca è una molto brava e che quindi riesce a instaurare una sorta di intesa anche maggiore con la serial killer stessa e si susseguono una serie di eventi che potevano essere interessanti ma che per me sono stati un pochino sopraffatti dall'elemento cucina e dalla difficoltà quindi di seguire la trama quando la trama stessa è interrotta non stop da cibo ripeto io mangerei non stop eppure durante una trama questa cosa mi disturba in tutto ciò però ci sono degli elementi che sono stati interessanti perlomeno per il nostro tipo di book club proprio riguardanti il ruolo della donna la posizione della donna in una relazione di coppia e quindi la sua funzione di cura verso l'altro la sua attenzione se vogliamo anche la sua potenza di vita o di morte in questo senso quindi questo legame col cibo è anche molto simbolico così come lo è rispetto all'aspetto più ampio del piacere e la parte fisica prettamente fisica dell'aspetto di che cos'è la bellezza per un canone contemporaneo quindi che cos'è la bellezza per il mondo femminile e quanto la nostra coprotagonista quindi l'assassina o presunta tale sia una figura particolarmente complessa in questo senso però molto interessante nella dinamica e nell'economia del romanzo proprio perché non corrisponde né alla donna particolarmente affascinante né particolarmente bella né particolarmente sexy né particolarmente simpatica la sua unica grande qualità è la capacità di cucinare qualcosa di godurioso di libidinoso che sembra ammagliare qualunque persona vada a finire alla sua tavola in questo senso qualunque uomo quindi è un romanzo anche qui che poteva essere interessante nel senso che è molto curioso partendo da un fatto di cronaca come appunto in questo caso non mi ricordo il nome della donna della criminale insomma della donna che è stata accusata ma se lo trovo ve lo metto e quindi interessante partendo da un fatto di cronaca riuscire a associare tutte queste riflessioni sulla contemporaneità del ruolo femminile anche in Giappone di nuovo però la protagonista quindi la persona con cui noi seguiamo un po' questo racconto non è particolarmente se vogliamo accattivante è dei momenti interessanti ma dal mio punto di vista non è stata particolarmente trainante e le vicende che si susseguono a volte è difficile capirne la razio e quindi anche lo sviluppo sfrutto in modo così veloce ripeto e quindi confermo quello che ho detto prima e quindi chiedo scusa ma io non l'ho finito e quindi chiaramente queste riflessioni sono date da aver letto un due terzi del libro forse tre quarti e aver sentito un po' anche le conclusioni dagli altri lettori e degli altri lettrici speravo che fosse più o più divertente in parte o più inquietante perché la figura del serial killer poteva essere molto più inquietante da mio punto di vista proprio perché ha questi tratti insopportabili una donna che però a volte reagisce come una ragazzina che non ha nessun senso dell'ironia che quindi è molto permalosa è molto anche consapevole dei suoi limiti fisici in parte in parte no e quindi era una figura interessante da esplorare anche negli aspetti più cupi certamente questo non voleva essere un romanzo di quel genere quindi viene fuori tutto un altro aspetto legato al cibo un aspetto anche molto importante che ha a che vedere con la cura di se stessi e questo viene fuori tramite la protagonista avrei voluto amarlo molto 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 di più e invece e invece sì certo è grazioso è gradevole mi ha lasciato un po' lì negli sviluppi conclusivi perché non li ho finiti e quindi nel momento in cui avrebbe dovuto chiudersi a me non ha convinto aereo e nell'insieme avendo iniziato a leggere altro ho trovato poi più accattivante continuare altro e questo mi ha segnalato che forse non era un libro che veramente mi appassionava a volte succede che i book club portino dei libri che promettono promettono e poi non sono nelle nostre corde e la cosa bella del book club è proprio quella di confrontarsi quindi avere qualcuno che si appassiona a un libro che magari a me non è piaciuto per niente o viceversa avere qualcuno che non apprezza un libro che a me per esempio ha toccato alla follia in questo caso anche qua un po' 50 e 50 nell'insieme è piaciuto in questa attenzione all'aspetto culinario in questa attenzione anche al legame tra cibo femminilità sensualità cura e quant'altro non a tutti è piaciuto il finale e l'evoluzione diciamo da tre quarti in avanti del romanzo se voi l'avete letto mi incuriosisce molto invece sapere cosa ne pensate proprio perché ecco io al momento non intendo finirlo quindi magari invece voi mi convincete a finirlo e mi dite no guarda bellissimo e finisce e migliora assolutamente tutto allora io adesso chiudo qua il video così evito di fare di nuovo un videone lunghissimo per ora vi ringrazio tantissimo inizio con i saluti di rito se questo video vi è piaciuto vi chiedo il like vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questi due testi se vi siete iscritti al canale vi ringrazio tantissimo vi ricordo la campanellina come sempre così quando i video escono vi siete avvisati e se non vi siete iscritti potreste farlo così continuiamo insieme a parlare di Giappone libri Asia viaggi cultura romanzi e tutto quello che riusciamo a raccontare quindi io per ora vi ringrazio ancora vi bacio vi aspetto al prossimo video ciao ciao Autore dei sovrapposti